Siamo allo Sheraton Nicolaus di Bari dove ha luogo il terzo concorso internazionale dei giornalisti del Mediterraneo, una chermessa importante per la nostra regione data la qualità dei partecipanti. Sono giunti alla giuria 107 lavori da giornalisti italiani appartenenti tra l'altro alle principali testate nazionali e da moltissimi giornalisti dell'area mediterranea, dalla Spagna all'area dei Balcani. Siamo con Lino Patruno che è il presidente della giuria di questo terzo concorso giornalisti del Mediterraneo e a lui chiediamo appunto il significato profondo di questo premio. Mediterraneo perché il Mediterraneo è la patria comune di tutti noi. Per noi del Mezzogiorno speriamo che sia anche il nuovo epicentro del mondo, il nuovo umbilico del mondo. Dai lavori dei giornalisti impegnati viene fuori un'Italia completamente diversa da quella che vediamo ogni giorno. Un'Italia della solidarietà, dell'impegno sociale, un'Italia silenziosa che è bene riscoprire, far venire fuori come merita. L'evento, promosso dall'Associazione Terra del Mediterraneo in partnership con Europuglia, assegna un premio al giornalista che si è distinto per il trattamento di tematiche legate all'area mediterranea e prevede poi quattro premi specifici sui seguenti argomenti. Economia e politica internazionale, donne e integrazione sociale, carceri e diritti umani, turismo religioso e promozione del territorio. A Fabrizio Tosini, curatore di Presa Diretta, chiediamo un concorso come questo o migliora in qualche modo la situazione? Sicuramente aiuta, questo è un premio sicuramente prestigioso che aiuta e della quale, questo lo dico anche a nome di Riccardo Iagona, ne siamo orgogliosi. Da Riccardo Iagona a tutta la relazione di Presa Diretta. Durante la serata sono stati assegnati anche i premi Caravella del Mediterraneo 2011, riconoscimenti alla carriera giornalistica. Siamo con Gabriele Torsello, fotoreporter salentino, ma diciamo giornalista del mondo possiamo dire, perché ci ha portato tantissimi servizi da luoghi difficili del pianeta. In questi giri appunto in zone calde del mondo, cosa porti dietro del Salento, diciamo della tua origine, del tuo territorio? Se c'è in qualche modo una continuità, un nesso? Si trova sempre un nesso, dipende dalle situazioni, per esempio quando stavo nel sud dell'India, Kenya Kumari, giù all'estremo sud, i locali si vantavano di avere l'unico posto al mondo dove vedi il sole che sorge e la luna che tramonta, stando allo stesso punto. Quando loro mi hanno detto, ho detto, aspettate un attimo, c'è il Salento, all'Euca, si vede. E questi tutti allarmati, ho detto, come? No, siamo soltanto noi ad avere questo primato. In Afghanistan stesso, spesso mi trovavo a parlare con gente così e che utilizzavano i loro dialetti. Io massicavo soltanto alcune parole, però poi la conversazione diventava tanto animata e felice che inserivo parole dialettali leccesi. Ci si capiva lo stesso. Ci si capiva lo stesso, il suono era simile, quindi come energia immediata funzionava, c'era felicità. Anche in tante altre situazioni, anche nel periodo di prigionia, per esempio, quando quelle poche volte mi permettevano di uscire e vedevo il sole, io chiudevo gli occhi, sentivo il sole che mi riscaldava sulla pelle, no? Ed era lo stesso, pensavo allo stesso sole che splende nel Salento, che sentivo quando andavo a mare, quando stavo in giro per Alessandro e altri luoghi. Anche questa terza edizione del concorso giornalisti del Mediterraneo si conferma dunque una prestigiosa occasione di visibilità nazionale per la città di Bari ed uno strumento in più per rilanciare i temi e le sfide del Mediterraneo.